Un'emergenza incredibile in questo momento perché ci sono più fattori concomitanti che si sono sovrapposti. L'ultimo è proprio il caro bollette con aumenti che vanno oltre il 500%, quindi la situazione sta diventando insostenibile anche perché non veniamo da un periodo ovviamente eroseo. Pandemia nel mercato asiatico, la guerra in Europa, il rincaro delle materie prime e ora costi insostenibili dell'energia, tutto questo sta creando una tempesta perfetta che per gli imprenditori ma anche per le famiglie sta diventando insopportabile. L'unica strategia è quella di invocare e sensibilizzare a sostegni vitali per non chiudere? Qui siamo arrivati in un momento che paradossalmente è peggio della pandemia, quindi la tempestività farà la differenza, abbiamo bisogno di decreti immediatamente attuabili che ovviamente devono essere anche supportati dall'Europa per mettere un tetto vero al costo delle materie prime, altrimenti le aziende saranno costrette a chiudere, non c'è piano B. Sul caro bollette esiste comunque una certa lungimiranza nell'installazione di pannelli fotovoltaici? È un piccolo pagliativo? Esiste, non per tutti e comunque anche chi aveva in cuore di farlo i tempi non sono immediati, qui non possiamo pensare a una soluzione che viene fra 6, 7, 8 mesi, se va bene, qui bisogna pensare all'immediato, alla capacità che in questo momento non hanno gli imprenditori di pagare le bollette, quindi bisogna avere un aiuto subito adesso e poi giustamente con tanta lungimiranza come i nostri imprenditori hanno sempre avuto, vedere nel futuro come limitare queste situazioni. E poi c'è anche la questione alluvione. Nella nostra provincia abbiamo avuto Cantiano che è l'esempio più eclatante, ma anche in altri comuni, situazione davvero drammatica, su Cantiano nel centro storico le attività economiche sono praticamente tutte chiuse e quindi anche lì c'è bisogno di un intervento immediato, di liquidità, perché altrimenti queste imprese rischiano di non riaprire più. Quindi la tempestività in questo momento farà la differenza rispetto a tutto quello che si deve fare. Non si può attendere alto tempo, non si può temporeggiare perché siamo davvero ai limiti.